Jane Roberts I poteri psichici attraverso Jane Roberts Solo una ricerca sistematica ci farà conoscere la natura dei sogni, i loro principali elementi e le loro caratteristiche principali. Osservando il materiale da me archiviato sorgono spontanei dei dubbi, ma sono personalmente convinta che spesso le informazioni legittimamente chiaroveggenti si intersechino con altro materiale subcosciente. Il lavoro svolto finora mi porta a credere che in sogno non solo riceviamo informazioni sugli eventi futuri, ma elaboriamo possibili sviluppi di quelle situazioni che viviamo prima in sogno e poi nella vita psichica. Grazie a tutti.